Grande opera dell'ingegno che Acquedotto Pugliese riesce a portare in ogni casa di ogni cittadino di questa parte del sud. Sopra con un'opera di recupero che è di grande valore, recupero dei muretti a secco, recupero dell'infrastruttura viaria, una grande ciclovia. I primi 10 chilometri di una ciclovia che attraversa la Valle d'Itria è un meraviglioso squarcio dentro il cuore del cuore del Mediterraneo. Il progetto, il pensiero è quello, un passo alla volta, di poter costruire 250 chilometri di ciclovia che possano fare della Puglia veramente un luogo attrattivo a livello internazionale, più di quanto già non sia.